Partiamo da questo claim che avete letto, non basta sognarlo, noi lo facciamo e questo farlo significa anche provare a ripensare le metodologie e provare a ripensarle in una logica di squadra. Siamo più di 110 aziende, istituzioni, teatri, atenei, soci di Paris. Noi continueremo ancora a portare avanti questi temi, saremo al vostro fianco per fare insieme percorsi inclusivi, per cui viva Parks, viva le aziende socie, buon formaggio. Vi vedo così affannati a cercare di sapere chi sono gli altri e le cose come sono, quasi che gli altri e le cose per se stessi fossero così o così. Ma secondo lei allora non si potrà mai sapere la verità? Se non dobbiamo più credere neppure a ciò che si vede e si tocca. Ma sì ci creda signora, però le dico rispetti ciò che vedono e toccano gli altri, anche se sia il contrario di ciò che vede e tocca a lei. Ascolteremo in questa giornata di lavori questa voce fuoricampo, queste voci fuoricampo le ascolteremo che ci accompagneranno in un racconto vocale che poi verrà messo poi in scena attraverso le testimonianze. Grazie ancora a chi è qui e a chi ci sta seguendo numeroso in streaming perché siamo live sul canale YouTube. Però noi adesso facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro e andiamo a raccontare quell'attenzione ad abbracciare, ad accogliere la diversità, a capire che la diversità insomma va valorizzata come va valorizzato tutto il lavoro dentro le aziende ma anche nelle comunità che si vivono. Quanta strada è stata fatta? Riavvolgiamo il nastro insieme a Igor che chiamo di nuovo qui sul palco perché in questo nastro che noi riavvolgiamo andiamo a ripercorrere le origini di Parks. Lascio di nuovo a te il palco perché tra qualche secondo ci sarà un incontro con degli amici in un caffè particolare qui sul palco del Teatro Elfo Puccini. È vero, è vero perché tu hai da fare ma io un caffè me lo prendo volentieri. Lascia il caffè. Con gli amici di una vita con cui non mi vedo da tanto tempo. Posso chiamarli già Gianpaolo? Vai. A salire. Ecco io, senatore Mascalfarotto, un benvenuto a Ivan, senza cui idea tredici anni fa noi oggi non saremo qua. Caro, benvenuto. Prendi un posto qua, va benissimo. La mia presidente, l'avvocata Giulietta Bergamaschi. Cara Giulietta, ti do la mano. Benissimo. Andrea, 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 Andrea. Caro Andrea Andrano Tarnicola, presidente del comitato scientifico di Parks, consuletta di Newton, uomo che io ho avuto l'onore con Lancia dei Cinco, di sposare e consuma. Benvenuto. Cinque sedie. Dov'è il mio amico? Lo vedevo prima. Paolo Iaci. Paolo. Paolo Iaci, presidente di IDB Promotion, per diversi anni presidente del comitato scientifico di Parks. Paolo, benvenuto. grazie. Dove voi? Disciplinatamente in ordine, eh? Che bello potersi prendere un caffè con voi, eh? Fare un po' di salotto. Scusate, ho veramente un caffè. Sì, ma c'è anche la cameriera secca dei signori Montagnè che ce lo porta, no? Adesso se mi si presenta veramente, non lo so. Non hai pensato? No, siamo a teatro, la cameriera secca. Per la generazione Z, andate su Google, andate a cercare chi fosse la cameriera secca dei signori Montagnè, che entrava rigorosamente dalla sinistra teatro, un omaggio ad Anna Marchesini, a tutte le alleate che anche nel mondo del teatro e dello spettacolo ci hanno accompagnato in questi anni. Allora, stamattina... Scusami, scusami, ma per noi due che siamo istriani più o meno il caffè sarà un po' come si deve, un po' corretto, ti va bene? Corretto, sì, però senza zucchero, perché io sono triestino, questo è l'unico dogma che ho, quindi per il resto fai tu. Stamattina venendo qui a teatro pensavo al mio primo pranzo con Iva Scalfarotto, giapponese, giapponese, esatto, il ristorante giapponese. Giampaolo Colletti e io avevamo scritto il primo libro di Queer Management nel 2008 e nel 2009 lo avevamo presentato e volevamo che Ivan Fos, avevamo sentito parlare di questo direttore del personale che parlava di tematiche LGBTQ+, abbiamo detto chiediamogli di presentare questo libro, lui mi invitò a pranzo e la cosa che mi colpì in quel 2009 e che tuttora mi resta è che lui mi descrisse Parks nel 2009 esattamente come è adesso, cioè la tua descrizione di Parks fu Parks adesso. Perché avevi avuto questa intuizione, da dove era emersa questa idea? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito per me, tornare a Parks è sempre un piacere enorme. Diciamo che questa intuizione, questa idea resta una delle... forse la cosa... forse devo cambiare microfono, va bene? Secondo me Igor sei tu con l'archetto, no? Non sappiamo. Vabbè, comunque diciamo che l'idea di Parks resta una delle cose di cui sono più orgoglioso in assoluto di aver fatto. E l'idea è nata prima di tutto da dipendente di una multinazionale ma gay in Italia, di una multinazionale di cui sapevo esistessero delle politiche di inclusione, di diversity in tutto il mondo, ma pensavo che l'Italia fosse un posto a parte. Per cui io lavoravo per quell'azienda importantissima, grande, prestigiosissima, ed ero anche il direttore del personale per l'Italia, ma ero rigorosamente in the closet. Tant'è che quando poi usci, dopo essere stato trasferito a Londra, la nostra CFO mi disse, ah per questo non dicevi mai niente di te, io pensavo perché eri dell'Aixar, io le spiegai che l'Aixar non è la stasi, che noi di solito, diciamo così, ci apriamo anche ai colleghi, però era evidente che l'ambiente in ufficio a Milano non era, diciamo così, particolarmente inclusivo. Quando parlavo con i miei colleghi capivo che era meglio che insomma mi facessi fatti miei e rimanessi in the closet. E poi arrivato a Londra le cose erano cambiate moltissimo perché a Londra esisteva già una policy molto avanzata, esistevano proprio degli ERGs, quindi c'erano dei gruppi, c'era City Pride nel quale entrai subito, diventai lei Charlie Eson di City Pride, anche lì arrivato a Londra il capo della Diversity che era una signora inglese mi disse ma perché un eterosessuale italiano vuole entrare a City Pride? Io dissi guardi, probabilmente manca una notizia qui. E mi resi conto però, arrivato a Londra, di quanto essere uscito fuori dall'armadio mi facesse stare bene. La mia vita era cambiata completamente, sia perché ero più tranquillo, più felice, lavoravo con più rilassatezza e sia perché sentirmi riconosciuto quando mi hanno trasferito, mi hanno chiesto quanti siete, io ho detto due, nessuno mi ha chiesto se portassi con me una moglie, una fidanzata o un fidanzato, quello che era, eravamo due per loro, non importava, lo sceglievo io diciamo il mio partner, non l'azienda e questa cosa che mi fosse riconosciuta per me è stata importante. Poi facendo l'HR quindi ho cominciato a lavorare sulla Diversity e poi è successo che mi hanno trasferito a Mosca, posto non facilissimo come potete immaginare, ma avevo un direttore generale molto illuminato che volle che tutte le politiche di Diversity dell'azienda fossero implementate anche in Ucraina, in Kazakhstan e in Russia, che era la nostra regione. E lì ho cominciato a dirmi, ma se io posso fare dei corsi di Diversity and Inclusion ad Almaty, Kazakhstan, probabilmente li posso fare anche a Milano. E forse ce n'è bisogno anche a Milano. E poi c'era stata un'altra cosa che durante quegli anni ero entrato in contatto con un'organizzazione americana che si chiama Out and Equal, sottotitolo Workplace Advocates, che per me è stata una vera e propria illuminazione perché loro, diciamo così, sono stati il modello per Parks e parliamo, tenete conto che io mi sono trasferito a Londra nel 2002, quindi 21 anni fa, e loro facevano delle cose straordinarie, la loro fondatrice che si chiama Celis Berry, veramente faceva questo forum annuale al quale partecipavano tutte le più grandi aziende del mondo e lì anche ho pensato, ma se si fanno gli Stati Uniti, queste aziende ci sono anche in Italia, quindi potrebbero essere interessate a fare le stesse cose anche in un altro paese. In realtà la difficoltà era che poi spesso le direzioni generali italiane dicevano alla casa madre, sì capiamo che questa è una policy globale, ma in Italia non è il caso. Tu ricordi i primi incontri con i direttori del personale in Italia? Io ricordo il primissimo forum, diciamo, in IBM organizzato con Marco Mazza, che ringraziamo ancora per quell'occasione che credo sia con noi. Ciao, ah ma c'è? C'è, c'è, c'è. Ciao Marco. Ricordo appunto il primo incontro, parteciparono poche persone e io ricordo proprio il body language delle persone che ci stavano ascoltando e che erano davvero sorprese, no? Sì, io tra l'altro appunto venivo dalla direzione del personale, quindi questi erano colleghi e quindi io parlavo la loro lingua e questo mi dava un accesso iniziale, ma poi c'erano due reazioni. Quando io dicevo loro, ma scusate, più o meno secondo voi quante persone LGBT avete in azienda? Ma nessuna, mi dicevano. Io dicevo, ma statisticamente è impossibile, cioè non è possibile, nessuno si manifesta perché evidentemente nessuno si sente libero o a suo agio, sente che l'ambiente è, come si dice, safe, no? Per uscire. E poi mi dicevano questa seconda cosa che era, ma poi, Ivan, fondamentalmente, ma perché noi dovremmo occuparci di questa roba? Perché che c'entra il sesso con il lavoro, no? Perché mi devo occupare della vita privata della gente? E quindi mi accorgevo che l'idea che il sesso centrasse pochissimo, perché anche i più fortunati di noi, diciamo, destinano a questa attività frazioni infinitesimali del proprio tempo, diciamo, era una questione legata alla socialità, era legata al tuo modo di vivere, al tuo tempo libero, tutte cose che poi porti in azienda. E quindi, quando poi provavi a spiegarglielo, vedevi che lo sguardo era completamente smarrito e spiazzato, perché cominciavi a dirgli, no, ma guarda che la tua eterosessualità sta in azienda tutti i giorni, ogni momento. Tu parli delle tue cose, dei figli, di tua moglie, di dove hai festeggiato l'anniversario, che la suocera ha un problema, e tutto questo entra necessariamente nel luogo di lavoro, ma era un concetto completamente fuori dallo schermo radar. Igor, quando Ivan ha cominciato a corteggiarti sulla Rambla a Barcellona, no, sveliamo anche questi momenti... Corteggiamento professionale. Corteggiamento professionale sulla Rambla a Barcellona per convincere... Anche perché eravamo tutti e due con i rispettivi compagni che non avrebbero gradito. Esatto, non avrebbero gradito, però... Mettiamo quando si è concluso, si è concluso il corteggiamento sulla Rambla di Cataluña, è vero? Io avevo lasciato il mondo delle banche e mentre parlavo, mentre Ivan parlava prima, eravamo anche colleghi, Ivan faceva le risorse umane, Ivan era bravissimo nel suo lavoro, io facevo corporate investment banker, credo di essere stato molto meno bravo in un mondo... In un momento lascio, lascio il mondo delle banche e cerco di capire cosa fare con la vita. Vado anche a Barcellona, sto là per qualche anno e penso, torno al mondo delle banche, ho fatto pure colloquio in Spagna per capire, ma Igor, seppena ho uscito da un qualcosa che probabilmente non ti apparteneva, cosa c'è di altro? E poi arriva l'amico che conosco da vent'anni e inizia a parlarmi di questa, Parks, gay in azienda. Io dico, ma io che cosa sono? Poi mi sono chiesto, quante persone in banca sapevano di me? Non ne ho mai parlato, liberamente, ma se dovessi chiedere l'esame di coscienza delle persone in banca, quante mi avrebbero detto sì, Igor, certo. E Ivan mi dice, vuoi venire a lavorare con noi? Era l'epoca in cui Ivan intensificava il suo futuro politico e... Non so, quella sera, Rambla, Barcellona, bel tempo, belle cose, io dico sì. E andiamo tutti a cena a festeggiare. Ti sei mai pentito? Ma io me ne pentò ogni mattina. E poi ogni sera, ogni sera, nella giornata che mi porta a capire il valore di quello che ho il privilegio di fare, e il mio marito lo sa, io dico, Alberto, io mi frego da solo. Arrivo alla casa a sera e sono stanco, ma felicissimo. E poi il giorno dopo di nuovo. E lui ride e dice, Igor, è così. Però bisogna riconoscere che da direttore del personale ho trovato un successore all'altezza. Guarda, io ogni volta dico, ma tra tanti a Barcellona ha trovato la persona giusta. No, ma per me era evidentissimo, perché appunto avevo lavorato con Igor, tra l'altro io venivo dalla direzione del personale e diciamo, forse Parks in quella fase aveva bisogno di un assetto organizzativo, delle regole di ingaggio. Igor invece era un banker, vero, era uno che lavorava con i clienti, che aveva relazioni commerciali, e infatti io sono felicissimo di aver passato la patata bollente, ma in realtà un bambino che amo moltissimo, a Igor, perché Igor è stato poi determinante nello sviluppo, nella capacità di stabilire rapporti con tantissime aziende, e infatti se sono diventate più di 100 vuol dire che era molto suo. Molto suo. La prima volta che ci siamo incontrati, Igor era in una pasticceria a Milano, ho scoperto che eravamo tutti e due di origine istriana, io di Capodistria e lui di Pola, quindi c'era questa dimensione adriatica, e cominciarono i primi forum, si cominciò a organizzare i primi forum a Roma, 2013-2014, e la cosa che mi colpì in uno dei primissimi forum di Parks, non eravamo tantissimi, eravamo pochi a Roma, ci trovavamo insomma con le poche aziende che al tempo avevano aderito appunto a Parks, fu la presenza di Paolo Iacci, che decise di portare l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale in Parks, e io dissi, ma quanto coraggio, cioè perché avevi pensato al tempo, le aziende iscritte credo fossero 6 o 7, di portare questo tema dentro IDP e IDP in Parks? Allora, la cosa nasce da una cena molto gradevole in un ristorante piemontese, dove per la prima volta Ivan mi racconta di Parks, e lì io ogni volta ci penso, allora quando io inizio il corso di gestione delle risorse umane in Statela a Milano, chiedo sempre ai ragazzi, quando voi pensate a un capo del personale, che se fosse un animale, che animale sarebbe? Vengono fuori cose, il bestiario di Borghese e niente al confronto, ma l'animale che più viene menzionato è il serpente, che in effetti è vero, perché se poi tu ci pensi, non è che i bambini da pigi si dicono tu cosa vuoi fare? Il palombaro, il pompiere, il missionario, il medico, ma non il capo del personale, cioè se un bambino dice il capo del personale, lo facciamo vedere a qualche dono, deve essere uno bravo però, perché è un bambino che ha delle difficoltà, insomma. In realtà, poi io da sempre lavoro all'interno dell'associazione, della direzione del personale, perché penso che chi si occupa di risorse umane può fare la differenza all'interno dell'organizzazione, perché davvero riesce a fare delle cose che dall'esterno è difficile fare. Può cambiare il modo con cui le organizzazioni si rapportano con le singole persone e con i gruppi. Noi siamo classe dirigente, questo è un paese che troppo spesso guarda in alto, invece di prendere in mano le proprie sorti. Allora il motivo vero per cui ho portato la direzione del personale dentro l'associazione è perché quando in quella sera Ivan mi parlò di PARS, disse questa è una bella occasione per essere classe dirigente. Una delle primissime ospiti dei forum, bravissimi. Bravissima soprattutto per averci poi accompagnati e accompagnate in questo percorso in tutti questi anni, aver guidato anche il comitato scientifico, insomma scritto libri, averci anche rappresentato in questi anni. Giulietta, tu sei stata una delle prime ospiti dei forum di PARS, ricordo a Roma questa avvocata che appunto salì sul palco e per la prima volta non esisteva la legge sull'unione civile, insomma davvero l'ecosistema legale non era un riferimento per noi, parlavamo di cultura, fece la prima presentazione legale su questi temi. Che cosa ti colpì di PARS? Allora Andrea, intanto tutto buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Era il 2014, devo dire che ero un po' spaesata all'epoca perché stavo cercando di capire meglio l'organizzazione nella quale mi ero inserita e ricordo che all'epoca erano circa 30 le aziende associate. Quando incontrai per la prima volta Igor, mi raccontò, mi spiegò, eravamo a casa di Paolo che aveva organizzato una cena, quindi devo dire che la convivialità ritorna nella storia di PARS ed è fondamentale per le relazioni umane. E partecipai a questi primi incontri proprio nel 2014 quando il mio studio decise di associarsi. E quello che mi colpì è sostanzialmente un po' quello che ha detto all'inizio di questa nostra chiacchierata Ivan. la volontà delle persone che all'epoca componevano PARS di prendersi cura delle persone. Quello che mi colpì era proprio questo ed è una cosa che io ho sentito immediatamente mia perché faceva già parte di me. Quindi ho pensato che fosse qualcosa in cui avrei potuto dare un contributo ma avrei anche potuto ricevere tanto ed effettivamente ho ricevuto tantissimo io in questi anni di PARS perché ho imparato tanto, ho approfondito tutta una serie di questioni di cui io avevo una conoscenza che però era una conoscenza più oggettiva e meno soggettiva. Quindi ho imparato a vivere sulla mia pelle tutta una serie di aspetti della vita di tutti i giorni che in precedenza non conoscevo con la dovuta attenzione. Credo che questo abbia contribuito a far sì che io potessi poi dare il meglio all'interno di questa associazione ma crescessi come persona, crescessi anche nella mia sensibilità e nella mia consapevolezza e quindi potessi in questo modo dare il meglio in tutti gli aspetti diciamo così della mia vita perché poi come abbiamo detto fino adesso noi siamo un unicum, siamo un'essenza e quindi abbiamo una vita professionale ma la nostra vita professionale si compenetra con la nostra vita personale con l'essere noi stessi e quindi come dire tutto ha una ragione d'essere e tutto trova una spiegazione in quello che costantemente noi facciamo e credo che PARS abbia proprio questo ruolo. Ha un ruolo di natura istituzionale perché ha un ruolo di natura istituzionale ma il contributo che dà sia a livello istituzionale sia alla vita dei singoli alla vita delle persone alla quale contribuisce costantemente con tutte le attività che fa credo che sia la cosa più importante di questa associazione. Tu sei stata una delle prime alleate a entrare in PARS, a partecipare qualcuno ha cominciato a guardarti con occhi diversi qualcuno ti ha chiesto forse Giulietta ci devi dire qualcosa sì Andrea, assolutamente qualcuno ha pensato che tu fossi lesbica assolutamente sì perché ci sostenete assolutamente niente Romeo insomma pensavano no pensavano niente Romeo esatto assolutamente sì è successo che effettivamente io per la prima volta nella mia vita ho dovuto riflettere sul mio orientamento di genere che in precedenza non mi era mai capitato nel senso che io avevo sempre dato per scontato che l'orientamento di genere faccia parte di te tu sei quel che sei e quindi non devi dare spiegazioni non devi dare giustificazioni a nessuno e invece il fatto di aver iniziato a frequentare in maniera importante Parks e soprattutto averne dato evidenza perché ovviamente quello che io faccio poi ha sempre delle ricadute nei confronti dell'esterno ha fatto sì che io percepissi questo punto interrogativo abbastanza importante davanti ai miei occhi e che le persone che mi conoscevano mettessero in qualche dubbio in discussione il mio orientamento sessuale circostanza che a me non interessava assolutamente nel senso che io non ho mai dato spiegazioni a nessuno perché io sono io e se sono stata come dire tua amica o consulente fino all'altro ieri il fatto che sia entrata in Parks non dovrebbe cambiare assolutamente niente a prescindere diciamo così da quello che è il mio orientamento sessuale quindi da questo punto di vista il fatto di essere inserita in questo panel che fa riferimento a così è se vi pare mi è sembrato fantastico perché a un certo punto voglio dire la risposta se decidi che non ti interessa e sei tu quello che sei e è rilevante quello che pensano gli altri e quindi la verità è tua e non deve essere una verità degli altri parole conclusive io sono per me io sono quella che voi vedete che sono le parole adesso non le ho citate bene perché ovviamente non me le ricordo a memoria di così è se vi pare secondo me sono un pensiero fantastico per la discussione che stiamo facendo oggi quindi questo lo dico per dire che ciascuno di noi dovrebbe sentirsi libero di essere quello che è a prescindere oggi ovviamente ci concentriamo sull'orientamento sessuale perché stiamo parlando di questo che è quello che noi facciamo tutti i giorni ma le aspetti che caratterizzano le persone che quindi ci rendono diversi gli uni dagli altri sono tantissimi i fattori che ci rendono diversi gli uni dagli altri sono tantissimi e questo come può capitare per l'orientamento sessuale può capitare per qualsiasi altra cosa e non deve essere così non deve assolutamente essere così non ci deve essere un momento in cui qualcuno si debba sentire nelle condizioni di doversi giustificare per qualcosa nei confronti degli altri Igor tante persone hanno contribuito al successo di Pax oggi non potuto essere con noi Dario Longo vogliamo ricordare il suo ruolo in questi anni sì tante tante persone hanno contribuito o sei contribuire sarebbe come dire hanno fatto un qualcosa le persone hanno fatto cose non è contribuire è proprio creare creare noi all'inizio se lo ricorda e la mia amica Simona che non vedo qua ma è qua da qualche parte eravamo in due o tre persone a fare mi ricordo quando non avevamo nemmeno nelle casse i fondi per pagare gli stipendi erano quelli i tempi oggi siamo cento e passa sai cosa è cambiato le persone hanno contribuito nella consapevolezza dell'importanza del tema Dario Longo il presidente fino all'ultimo mandato quando lo è diventata Giulietta il primo presidente Paolo Arnaldi il nostro ex collega di Siti io mi ricordo per parlare adesso delle aziende che poi sono fatte di persone domani ci sarà il Pride di Milano e da settimana è quello che sentiamo è una polemica sulle aziende che si dipingono di rosa quelle parole che non mi appartengono pink washing grain of washing io dico facciamo molta attenzione non possiamo mettere tutti in uno stesso cestino non sarebbe giusto se un'azienda ha fatto le cose in casa se ha una storia da narrare fuori perché in casa l'ha vissuta per me non ha solo il diritto ha l'obbligo la responsabilità di raccontarla l'importante è che l'abbia fatto in casa e a tal punto nessuno mi può parlare di un di un dipingersi di rosa perché proprio non mi viene la parola ma di assumersi la responsabilità nei confronti del mondo e farlo andare avanti sai perché lo dico perché dieci anni fa Ivan tu lo ricordi molte aziende dicevano noi vogliamo fare facciamo le cose ma non le possiamo raccontare Ivan ti ricordi l'assurdo ma facciamo cose facciamo sessioni di formazione vediamo le norme però non lo diciamo fuori cosa diranno i clienti quindi pensare oggi pink washing e pensare come era io dico il mondo è cambiato Ivan prego sì no per dire che noi abbiamo partecipato ai primi pride come parks con uno striscione privo dei marchi delle aziende perché io all'epoca gestivo ancora io l'associazione e dissi che o li mettevamo tutti o non ne mettevamo nessuno e non raggiungemmo l'unanimità dei soci perché c'erano nostri soci quindi che facevano cose per i loro dipendenti LGBT molto pratiche ma che non non desideravano che si sapesse e questo secondo me diciamo vi fa capire appieno quale fosse l'atmosfera quando abbiamo cominciato anche perché in quel momento due persone che si amavano non erano ancora riconosciute no? erano persone dello stesso sesso e infatti la legge su riunioni civili fu un passo importante anche per parks non solo per il paese e fu una grande soddisfazione per noi vedere te quindi il fondatore di parks diventare uno dei protagonisti di quel passaggio storico che ruolo ha avuto la legge sull'unanimità civili nella trasformazione dell'ecosistema italiano rispetto a questo tema e se vogliamo ricordare quei giorni enorme diciamo che il mondo è completamente cambiato ripeto l'episodio che vi raccontavo io credo che sia veramente molto significativo del fatto che si temesse cioè si pensava che le cose da fare erano giuste ma che la ricaduta pubblica poteva essere negativa per l'azienda perché evidentemente lo stigma era tale da dire io lo faccio ma di nascosto e in quel momento la legge su riunioni civili sembrava una cosa lontanissima parliamo del 2010 2011 quindi mancavano 5 anni che possono essere un'era geologica ricordi dico con 9 anni di convivenza confermate con uno scambio di raccomandata con l'avviso ricevuta quando in Olanda ci sono ormai da un decennio sì sì il progetto di legge il Parlamento era mandarsi le cartoline e dirsi guarda sei tu sì ma era un progetto di legge che non aveva nessuna speranza di essere cioè diciamo che era una cosa lontanissima chiaro che le unioni civili hanno stabilito innanzitutto gli obblighi di legge perché la legge sulle unioni civili ha proprio una norma che dice che per tutto quello che non è previsto nella legge comunque le parole diciamo l'unione civile si applicano tutte le norme del matrimonio quindi le cose che distinguono unioni civili e matrimonio devono essere specificate dalla legge e sono appunto la parte sulla filiazione e in particolare la mancanza dell'obbligo di fedeltà e poi c'è un'altra questione che è quella che non c'è la separazione prima del divorzio però a parte questo le leggi sono uguali e la legge dice se mi sono dimenticato qualcosa prevale l'equiparazione tra unione civile e matrimonio e quindi questo ha stabilito che nel mondo del lavoro tante cose che noi dicevamo alle aziende che potevano fare in assenza di una legge sono diventate cose che le aziende devono fare per legge quindi mentre prima noi dicevamo guarda voi potete stabilire che se una vostra dipendente vi dice che ha un figlio con la sua compagna voi potete dare per esempio i permessi per la malattia del figlio anche alla dipendente che ve l'abbia detto nessuno se la legge non lo prevede comunque le aziende possono dare dei trattamenti migliorativi rispetto alla legge quindi le aziende che hanno aderito a Parcs inizialmente sono state veramente delle pioniere io per esempio voglio ricordare Banca d'Italia che decise di iscriversi poco prima dell'approvazione della legge sui unioni civili per dire io lo faccio prima che la legge arrivi quindi sicuramente è stato un momento di grande passaggio e tuttavia c'è sempre una strada da fare nel senso che la strada per l'uguaglianza è una strada infinita c'è sempre una tappa successiva dal punto di vista per il Paese io credo che sia stato un momento entusiasmante un momento di grande speranza un momento nel quale abbiamo anche ci siamo messi alla pari con tutta la comunità internazionale con la quale noi normalmente ci confrontiamo i Paesi con i quali che noi riteniamo amici e alleati sono tutti Paesi che riconoscono le coppie LGBT io dico in questo momento che la legge sui unioni civili ormai ha sette anni perché è del maggio 2016 e quello che penso in questo momento è che quella comunità internazionale riconosce ormai il matrimonio ugualitario e quindi dato che diciamo coloro i catastrofisti dicevano che la legge sui unioni civili avrebbe fatto venire meno la nostra società avrebbe dissolto la società avrebbe creato dei cataclismi dopo sette anni possiamo dire tranquillamente che la nostra società è in ottima forma ed è rimasta tale e quale diciamo che la legge sui unioni civili non ha disgregato alcunché anzi ha aggregato e ha creato inclusione e rispetto perché la cosa bella delle unioni civili è che all'unione civile tu inviti tua nonna la zia che viene da fuori e si divertono tantissimo a ballare e a mangiare con tutti gli altri e quindi questo secondo me ci ha anche sdoganato le nostre coppie io ricordo una volta un funzionario della camera che mi disse sai Ivan sono andato per la prima volta a un'unione civile ma è proprio come un matrimonio ho detto anche meglio di quello di solito ci divertiamo pure di più e quindi questo secondo me ha anche aiutato a creare una cultura di maggiore accettazione e diventata più mainstream diciamo la coppia LGBT però oggi io penso che sia tempo come è successo in altri paesi penso alla Svizzera penso alla Germania penso alla Gran Bretagna penso alla Francia che rispetto ad altri paesi che hanno subito approvato il matrimonio ugualitario tipo la Spagna e gli Stati Uniti altri paesi simili a noi come cultura giuridica hanno prima fatto un passo le domestic partnerships le unioni registrate in Germania i PACS in Francia e poi sono passati al matrimonio una volta verificato che la società era pronta ecco io penso adesso siamo pronti e quindi mi aspetterei una sorta di unanime sostegno una legge sul matrimonio ugualitario che però tanto unanime non è diciamo purtroppo la verità io comunque il disegno di legge l'ho presentato vediamo e pensare che in alcuni paesi sono stati i governi conservatori ad approvare il matrimonio assolutamente ricordiamo sempre David Cameron che disse io sono per il matrimonio ugualitario non nonostante il fatto che io sia conservatore ma perché sono conservatore quindi invece che voi andiate in giro a fare cose strane è meglio che vi sposate e siete a casa questo era un po' diciamo il pensiero di Cameron il pensiero di Cameron esatto Giulietta il ruolo dell'evoluzione del diritto e della giurisprudenza in questi anni rispetto all'inclusione LGBTQ plus che ruolo ha avuto l'evoluzione della normativa non solo rispetto alle unioni civili in generale ma dunque Andrea secondo me è un processo bionivoco nel senso che proprio per arrivare alle leggi sulle unioni civili di cui parlava adesso benissimo Ivan è stato fondamentale anche il movimento di opinione che arritavava dalla società civile e quindi poi anche il contributo di Parks al tempo stesso tutto ciò che è stato fatto anche a livello giurisprudenziale che evidenziava proprio la mancanza di adeguatezza del nostro paese rispetto al sistema comunitario nel quale ci troviamo inseriti aveva reso evidente che un intervento legislativo era ormai necessario e duveroso e quindi ha come dire segnato il passo per creare un sistema che adeguasse la nostra legislazione sotto alcuni aspetti e sotto alcuni punti di vista non tutti come sottolineava adesso Ivan rispetto al resto della legislazione europea effettivamente tornando un po' a quello che tu dicevi all'inizio se devo fare il paragone tra quello che noi dicevamo nel corso dei nostri forum nel 2014 e il cambio totale di paradigma rispetto al 2016 con l'entrata in vigore della legge Cirinna è stato dirompente nel senso che nel giro di un paio d'anni sono completamente cambiate le cose quando io ho iniziato appunto a trattare questi argomenti in Parks lo facevamo dicendo se ci sono delle aziende che vogliono segnare il passo possono introdurre tutta una serie di polisi e di trattamenti che equiparano le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali pur non essendo dovuto per legge e quindi sicuramente oggi ci troviamo nella condizione di rispettare ovviamente tutti la legge ma la legge che non è completa e quindi manca di alcuni aspetti in particolare quello fondamentale e quello della filiazione della genitorialità ci ha portato a alzare diciamo così la sticella in Parks e quindi a lavorare sempre in maniera proattiva su tematiche che la normativa oggi non copre con l'auspicio che poi anche lì si possa arrivare e sicuramente il matrimonio ugualitario sarebbe come dire la soluzione a tutti questi mali perché a quel punto ci sarebbe una totale equiparazione e non ci sarebbe più il problema del unito civilmente che non ha un rapporto di filiazione con il figlio dell'altro partner dell'unione civile quindi è un lavoro continuo secondo me è uno scambio continuo tra società civile e il nostro legislatore con un ruolo importante anche da parte della giurisprudenza che diciamo che in questo periodo non sta aiutando molto ecco nel senso che c'è stato un periodo in cui ha fatto da sprone per ottenere i risultati che sono stati ottenuti oggi siamo in una fase in cui c'è un po' una battuta d'arresto quindi bisognerebbe ecco che ci fosse un po' più di coraggio per applicare le norme sempre avendo presente il principio di uguaglianza se il principio di uguaglianza è il faro allora a quel punto anche tutti quei vincoli che oggi vengono considerati dei punti di attenzione secondo me potrebbero essere superati io credo che debba essere questa la prospettiva sia da parte del legislatore sia da parte della giurisprudenza senza questo chiaramente ci si ferma poi come dire a fare più gli interessi di una parte politica che non gli interessi delle persone e non bisogna mai perdere di vista gli interessi delle persone perché indubbiamente la politica è importante ma le ricadute che le decisioni politiche possono avere sulla vita delle persone devono essere tenute in considerazione non si può prescindere da questo il faro deve essere sempre le persone paolo oltre 100 imprese sono iscritte a parks il diversity management il diversity equity inclusion management è entrato nella vita delle organizzazioni ma siamo diventati davvero più consapevoli quindi il lavoro da fare secondo me è davvero ancora molto vedi nel 2008 noi abbiamo avuto la crisi del subprime il modello capitalistico che vedeva nella massimizzazione degli utili degli investitori come Zenit a cui si dovevano rivolgere tutte le aziende ha dimostrato che quel modello non reggeva nel 2019 la business roundtable cioè l'organizzazione che negli Stati Uniti raggruppa i 500 CEO delle principali aziende americane ha detto chiaramente che quel modello non reggeva lo Zenit è rappresentato non solo dalla massimizzazione dell'interesse degli investitori ma anche dalla massimizzazione degli interessi di tutti gli stakeholder di tutti i portatori di interesse allora qui è da una parte interesse di tutti i lavoratori e dall'altra parte interesse di tutte le aziende quello di massimizzare l'interesse di tutti gli stakeholder quando noi siamo partiti io ho fatto un errore clamoroso cioè io ero convinto che questa associazione datoriale perché di questo stiamo parlando qui avrebbe avuto l'appoggio incondizionato ad esempio dei rappresentanti dei lavoratori io alcuni anni fa invitai a un congresso di IDP Landini che non era ancora diventato segretario generale e gli parlai di Parks e gli dissi beh questo è un tema che per voi dovrebbe essere centrale dove volevo arrivare volevo che in qualche modo il sindacato ponesse all'interno di qualche piattaforma di primo o di secondo livello il tema dei diritti Landini mi disse sì ma non fece mai nulla oggi noi non abbiamo il tema dei diritti all'interno di piattaforme sindacali questo è un elemento gravissimo io richiamo il tema del capitalismo inclusivo perché credo che per chi si occupa di risorse umane per chi dirige le imprese il tema dell'inclusione non è un tema aggiuntivo cioè o noi ragioniamo in chiave di sostenibilità complessiva per tutti i portatori di interesse o noi non ragioniamo proprio di una gestione sostenibile delle imprese e l'inclusione ha tutti gli effetti un elemento interno alla sostenibilità su questo noi abbiamo ancora molto da fare quando noi parliamo di sostenibilità ne parliamo ancora più o meno in chiave green oggi ci sono alcuni temi di inclusione che sono assolutamente negati ne cito uno per tutti vent'anni fa venticinque anni fa il 50% degli operai era figlio di operai oggi quel 50% è diventato il 65% cioè l'ascensore sociale si è davvero bloccato oggi chi nasce in una classe rimarrà in quella classe c'è uno studio di Oxfam che dice che se qualcuno in Italia nasce nella parte più povera della società impiegherà cinque generazioni per arrivare a far parte del ceto medio beh questo punto è un punto che vede paradossalmente molto interessate le associazioni industriali io di questo ad esempio ne ho parlato in Assalombarda e su questo c'è stato un grandissimo interesse perché il tema del merito è un tema fondamentale beh questo a parlarne tra di noi si fa ancora grandissima difficoltà io credo che però o noi affrontiamo il tema dell'inclusione su tutti i versanti oppure non c'è un versante che da solo vince il tema delle donne il tema della popolazione LGBT il tema di chi nasce svantaggiato eccetera è uguale a tutti gli altri temi o noi vinciamo su tutto o perdiamo su tutto noi dobbiamo fare in modo che la gestione sia una gestione sostenibile ed inclusibile per tutti Andrea posso aggiungere una cosa a quello che diceva Paolo aggiungo che se non lo fai a 360 gradi quello che fai non è credibile cioè se tu dici io mi occupo di inclusione mi occupo di sostenibilità e mi occupo di un pezzo solo non mi occupo di tutto vuol dire che allora sì che stai facendo tick the box perché se davvero pensi che quella sia una strategia trasversale al tuo business e che tu è il tuo modo di fare business cioè tu fai un business sostenibile e quindi qualsiasi comportamento organizzativo che tu poni in essere deve essere sostenibile e credibile se invece tu dici io mi occupo di questa singola cosa e quindi non dell'altra vuol dire che lì stai veramente facendo un esercizio un po' ipocrita che tenti di vendere in qualche modo insomma che fu peraltro il ragionamento che ci guidò nella scelta del P-Off se ti ricordi quella riunione global inclusion through LGBT fu una riunione molto interessante molti anni fa nella quale dovevamo scegliere per Parks uno statement e tu avevi detto global inclusion through LGBT sì cioè noi ci occupiamo di diversità LGBT perché pensiamo che sia uno strumento per raggiungere l'inclusione complessiva globale certo Ivan e Igor in che modo lo scopo fondante dell'associazione è il nostro heritage al quale abbiamo voluto dedicare questo primo momento del forum potrà alimentare il nostro futuro ma io voglio riprendere una cosa che diceva prima Mattia Peradotto io credo che le aziende siano appunto molto credibili come agenti di cambiamento perché le aziende non sono ideologiche fanno ciò che ritengono essere sano healthy quello che è bene per loro quindi se io assumo una buona pratica di management perché quello è diversity and inclusion vuol dire che sono capace di gestire bene l'azienda e in quell'ottica faccio crescere il mio capitale umano quindi faccio crescere le mie persone riesco a ottenere un ambiente più produttivo più funzionante più efficace raggiungo meglio i miei obiettivi e così via io credo che questo sia un esempio poi per tutte le comunità umane alla fine cioè se tu appunto come diceva prima Mattia se tu sviluppi il potenziale delle tue persone le metti in condizione di dare il meglio di sé ne ottieni alla fine qualcosa che è positiva per tutti e quindi io credo che Park sia uno straordinario agente di cambiamento perché introduce anche nelle famiglie l'idea della diversity and inclusion perché quando i nostri amministratori delegati mandano una mail dicendo abbiamo iscritto l'azienda Parks tutti i dipendenti anche quelli non LGBT si chiedono ma che sta succedendo perché e quindi aprono un tema di riflessione e poi chiaramente è una leadership by example perché nel momento in cui appunto tu fai in modo che tutte le tue persone tutti i tuoi fiori tutti i tuoi semi possano diventare dei fiori allora lì veramente riesci a ottenere il meglio della tua comunità e questo è applicabile a tutti a tutto Igor passato presente futuro è questo il filo rosso che seguiremo nell'incontro di oggi in che modo le nostre radici alimentano il presente e il futuro difficile aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto io ecco sono felice perché vi ho invitati a bere un caffè sono felice che si testi voi a ricordare il passato io il caffè non l'ho nemmeno avuto poi dobbiamo vedere perché la signorina secca non c'era non c'era vabbè non c'era la signorina secca dei signori montagnè per parlare seriamente Andrea volevo solo dire ci saranno tutte le motivazioni aziendali tutto quello che abbiamo sentito però io io credo che la premessa perché Parks continui il lavoro nel futuro si deve trovare anche nel fatto che aiutiamo le persone a migliorare la propria vita e qua non parlo del collega che un lunedì mattina dopo un po' di sessioni che abbiamo fatto riuscirà finalmente a dire ma ma guarda tu sai che il fine settimana non l'ho passato con Francesca l'ho passato con Alberto e ci sarà una liberazione incredibile una cosa immensa ci sarà anche il papà che a casa quando il figlio gli dirà papà sai a me piace quelle ragazze mi piace le ragazze questo papà che fino a qualche anno prima sarebbe entrato in un tunnel io io vorrei solo salutare le madri a Gedo che sono qua con noi un grande applauso per Gedo con cui lavoriamo da anni e io dico sempre meno male che a Gedo esiste se fosse esistita quando io crescevo chissà come sarebbe andata la mia vita quel che volevo dire è che l'impatto che si crea con le narrative sull'inclusione anche LGBT vanno a toccare la vita di tutte le persone di chi si è nascosto negli armadi dei segreti fino a ieri da tutti coloro che non hanno mai pensato a questo argomento oppure che si erano creati il parere basandoci sugli stereotipi sulle storie mai sentite noi liberiamo loro da questa zavora del non sapere quando vedo il CEO di un'azienda che mi dice però guardi sur anche qua da noi non ci sono gay e lesbiche è un'azienda di diverse migliaia di persone no non è un'azienda di minatori un'azienda di consulenza aziendale non è il mestiere per i gay per la lesbica non lo so e un paio d'anni dopo questa stessa persona ci racconta l'impatto che questo ha avuto su di lui in questo caso come è cambiata non solo l'azienda ma come il cambio aziendale ha aiutato questa persona a cambiare per me per me questo è questa è la cosa più importante che noi creiamo il cambio nel senso di miglioria della vita delle persone c'è qualcosa di più importante credo di no credo di no è stato molto bello prendere questo caffè insieme a voi spero di farci molti caffè ancora nei prossimi anni insieme dato il contesto dovranno essere corretti perché non so se sobrini ce la faremo però 00 987 puntualissimi grazie davvero buon forum